Papa Francesco, Angelus, 17 ottobre 2021, ventinovesima domenica del tempo ordinario Il Vangelo della liturgia odierna racconta che due discepoli, Giacomo e Giovanni, chiedono al Signore di sedere un giorno accanto a Lui nella gloria, come se fossero primi ministri, una cosa del genere, ma gli altri discepoli li sentono e si indignano. A questo punto Gesù, con pazienza, offre loro un grande insegnamento. La vera gloria non si ottiene elevandosi sopra gli altri, ma vivendo lo stesso battessimo che egli riceverà, di lì a poco, a Gerusalemme, cioè la croce. Che cosa vuol dire questo? La parola battessimo significa immersione. Con la sua passione Gesù si è immerso nella morte, offrendo la sua vita per salvarci. La sua gloria, la gloria di Dio, è dunque amore che si fa servizio, non potere che ambisce al dominio, non potere che ambisce al dominio, no, è amore che si fa servizio. Perciò Gesù conclude dicendo ai Suoi, e anche a noi, chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore. Per diventare grandi dovrete andare sulla strada del servizio, servire gli altri. Siamo di fronte a due logiche diverse. I discepoli vogliono emergere, e Gesù vuole immergersi. Fermiamoci su questi due verbi. Il primo è emergere. Esprime quella mentalità mondana da cui siamo sempre tentati. Vivere tutte le cose, perfino le relazioni, per alimentare la nostra ambizione, per salire i gradini del successo, per raggiungere posti importanti. La ricerca del prestigio personale può diventare una malattia dello spirito, mascherandosi perfino dietro a buone intenzioni. Ad esempio, quando, dietro al bene che facciamo e predichiamo, cerchiamo in realtà solo noi stessi e la nostra affermazione, cioè andare avanti noi, arrampicarci. E questo anche nella Chiesa lo vediamo. Quante volte noi, cristiani, che dovremmo essere i servitori, cerchiamo di arrampicarci, di andare avanti. Sempre. Perciò abbiamo bisogno di verificare le vere intenzioni del cuore, di chiederci perché porto avanti questo lavoro, questa responsabilità, per offrire un servizio, oppure per essere notato, lodato e ricevere complimenti. A questa logica mondana Gesù contrappone la sua, invece di innalzarsi sopra gli altri, scendere dal piedistallo per servirli, invece di emergere sopra gli altri, immergersi nella vita degli altri. Stavo vedendo nel programma a sua immagine quel servizio delle caritas perché a nessuno manchi il cibo, preoccuparsi della fame degli altri, preoccuparsi dei bisogni degli altri. Sono tanti, tanti i bisognosi oggi, e dopo la pandemia di più, guardare e abbassarsi nel servizio, e non cercare di arrampicarsi per la propria gloria. Ecco, dunque, il secondo verbo, immergersi. Gesù ci chiede di immergerci. E come immergersi? Con compassione, nella vita di chi incontriamo. Lì, in quel servizio della caritas, stavamo vedendo la fame. E noi, pensiamo, con compassione, alla fame di tanta gente? Quando siamo davanti al pasto, che è una grazia di Dio, e che noi possiamo mangiare, c'è tanta gente che lavora, e non riesce ad avere il pasto sufficiente per tutto il mese. Pensiamo a questo? Immergersi con compassione, avere compassione, non è un dato di enciclopedia, ci sono tanti affamati, no, sono persone, e io ho compassione per le persone, compassione della vita di chi incontriamo, come ha fatto Gesù con me, con te, con tutti noi, si è avvicinato con compassione. Guardiamo il Signore crocifisso, immerso fino in fondo nella nostra storia ferita, e scopriamo il modo di fare di Dio. Vediamo che Lui non è rimasto lassù nei cieli, a guardarci dall'alto in basso, ma si è abbassato a lavarci i piedi. Dio è amore, e l'amore è umile, non si innalza, ma scende in basso, com'è la pioggia che cade sulla terra e porta vita, ma come fare a mettersi nella stessa direzione di Gesù, a passare dall'emergere all'immergerci, dalla mentalità del prestigio, quella mondana, a quella del servizio, quella cristiana. serve impegno, ma non basta. Da soli è difficile, per non dire impossibile, però abbiamo dentro una forza che ci aiuta. È quella del battesimo, di quell'immersione in Gesù che tutti noi abbiamo ricevuto per grazia, e che ci direziona, ci spinge a seguirlo, a non cercare il nostro interesse, ma a metterci a servizio. È una grazia, è un fuoco che lo Spirito ha acceso in noi, e che va alimentato. Chiediamo oggi allo Spirito Santo che rinnovi in noi la grazia del battesimo, l'immersione in Gesù, nel suo modo di essere, per essere più servitori, per essere servi come Lui è stato con noi, e preghiamo la Madonna. Lei, pur essendo la più grande, non ha cercato di emergere, ma è stata l'umile serva del Signore, ed è tutta immersa al nostro servizio, per aiutarci a incontrare Gesù.